Non si fa in tempo a bonificare la zona che compaiono, rifiuti di ogni genere. Guardate qui. Una strada pubblica presto verrà chiusa ai non residenti succede a Casarano dove l'amministrazione ha vietato permanentemente al traffico la complanare alla strada provinciale 68, una presa di posizione senza precedenti per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Il sindaco Denuzzo ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica. Nel tratto vi sono dei terreni agricoli e un agriturismo. Soprattutto il titolare dell'attività commerciale si è spesso lamentato per l'abbandono incontrollato di rifiuti. Presto gli aventi diritto saranno dotati di telecomando per accedervi nella speranza che questo possa risolvere la situazione intanto all'amministrazione al lavoro per l'installazione anche di fototrappole. Per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti l'amministrazione comunale in breve tempo installerà un divieto di accesso ai non residenti e in più una sbarra che si alzerà con telecomando. Telecomando che avranno soltanto i contadini che hanno un terreno in questa arteria stradale e i proprietari dell'agriturismo presente proprio qui.